mattino lombardia erano anni che non ci vedevamo però finalmente è tornato il momento a volte ritornano a volte ritornano quando c'è qualcosa di bello da raccontare Federico ti manca solo il musical perché cioè tu veramente hai fatto tantissime cose cantatore regista sceneggiatore eh di tutto e di più i tuoi film anche mi sono piaciuti tanto sì 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 la famiglia come sta una bella famiglia quante belle cose famiglia bene adesso siamo proprio in questi giorni c'è anche Claudia qui a Milano perché sta registrando Zellig e quindi insomma no tutto bene le bimbe crescono per la verità anche fin troppo velocemente quanto tempo hanno adesso adesso la la piccola cinque e quella grande dieci e hanno già attitudini guarda è incredibile perché ti rendi conto che queste nuove generazioni sembrano una banalità ma sono totalmente diverse sono avanti hanno un approccio incredibile cioè crescono subito a volte io non riesco a fare delle cose col telefono c'è la piccolina papà c'è l'applicazione c'è l'applicazione capisci io non ne ho mai scaricata una no io lo ammetto io non ho vergogna di essere me stessa intanto dobbiamo parlare di un concerto pazzesco ventiquattro ventiquattro venticinque eh ottobre quindi fra pochissimi giorni al Blue Note di Milano che è in via Borsiere vicinissimo alla radio tra l'altro venerdì e sabato di di questa settimana siamo felici perché il Blue Note è un pezzo di storia della musica di qualità insomma italiana assolutamente ci sono passati e ci passano ancora nomi pazzeschi legati alla musica blues jazz e come dire insomma quindi siamo felici di poter fare parte in qualche modo del cartellone di questo tempio importante della musica faremo quattro spettacoli in due giorni perché inizialmente erano un concerto il ventiquattro e uno il venticinque sabato però poi i biglietti sono andati esauriti e quindi abbiamo deciso di aggiungere delle date quindi sono ancora disponibili dei biglietti per queste due date e quindi ci dobbiamo preparare a fare due concerti come dire a sera quindi alle 23.30 ripartite da capo ripartiamo da capo perciò ci sono ancora biglietti per le 23.30 sia di sabato che di domenica perfetto quindi insomma è importante spiegare bene perché giustamente in tanti vorranno vorranno venire beh da cosa partiamo perché tu veramente avendo fatto tante cose hai tante cose da raccontare che cosa suonerete per esempio cioè ripercorrerete la storia di Romancino che è una bellissima storia noi poi ascolteremo anche un pezzo di tanto tempo fa ma c'è stato l'imbarazzo della scelta perché insomma abbiamo cercato sai anche tutti gli anni che poi io mi sono dedicato al cinema è perché in quel momento forse non sentivo di non avere poi delle storie così interessanti da raccontare da un punto di vista musicale quindi abbiamo aspettato poi che tornasse come dire la cosiddetta ispirazione che poi non è altro che una sintesi anche della tua vita insomma a volte uno non è che scrive così con la bacchetta magica e certamente devono succedere delle cose ispirarti e quando sei ispirato quando senti che la tua vita insomma in qualche modo vuole essere rappresentata da qualcosa da me lì la canzone arriva miracolosamente quando meno te l'aspetti e di solito arriva tutta insieme davvero un po' come gli scultori che dicono che la statua è già dentro il blocco di marmo esattamente è un po' come per un attore il personaggio è già dentro devi solo tirarlo fuori cioè lì a volte ho avuto una sensazione anche su quest'ultimo disco che era indagine su un sentimento dove non so un pezzo che è uscito a marzo un pezzo come liberi è venuto fuori proprio di getto perché lì è la vita che ti ti mette proprio in bocca le parole le melodie quella è la cosa più bella perché capisci di essere stato un po' un tramite tra la tua vita e qualche mondo sospeso dove queste canzoni probabilmente già fatte ma dai bella questa cosa attendono solo di uscire di trovare così una porta per entrare in questa realtà ma è incredibile quello che ci sta ascoltiamo immagini che lasciano il segno appunto dall'album indagine eh su un sentimento e poi parliamo di questo pezzo dopo un piccolo stacco pubblicitario e poi riascoltiamo anche qualcosa del passato del passato ce l'abbiamo nel cuore. Mattino Lombardia You found me the Frey qui a Mattino Lombardia stiamo parlando con Federico Zampaglione Tiro Mancino anche perché abbiamo detto che il 24 e 25 ottobre c'è uno spettacolo ci sono due spettacolo quattro quattro in due giorni mamma mia aiuto aiuto però dai la musica poi è trascinante ti dà una forza finché si suona vero c'è musica c'è speranza tutto quello che è arte da adrenalina e poi stavamo a un punto dicendo che questo paese adesso bisogna di rilanciare proprio la cultura no perché il cervello ha bisogno di essere nutrito e quindi se nutri il cervello stai meglio anche. Eh questo è un paese che culturalmente avrebbe un grande potenziale e bisogna poi però come dire farci caso. Però guarda che da qua passano in tanti da qua passano in tanti posso dire che c'è un bel fermento. Meno male perché insomma sono stati anni piuttosto duri. Piuttosto duri è vero duretti. Allora diciamo che sul nostro diario di bordo abbiamo già messo il la pagina del sito del Blue Note che vi interessa così potete prenotare per lo spettacolo per gli spettacoli del 23 e 30 c'è ancora c'è ancora spazio. C'è ancora posto. Seguirà un tour adesso un tour europeo addirittura raccontaci tutto. Sì faremo una lunga tournée che comincerà divisa in varie fasi e la prima fase sarà appunto nei club italiani e europei suoniamo anche l'otto dicembre a Londra insomma poi suoneremo un po' in tutta Europa e in tutta Italia nei club. Poi con l'inizio dell'anno nuovo invece parte una fase teatrale per cui suoneremo in tutti i teatri italiani. Quindi tornerai anche dalle nostre parti. Assolutamente sì. E quindi ci vorrai ritrovare chiaramente. Sì sì. E poi insomma ci sono varie cose che stanno bollendo in pentola. Collaborazioni che non si possono dire ma li sentiremo in onda. Ecco. Di cui non posso dire nulla se no probabilmente verrei decapitato. Eh sì e ma nei prossimi mesi ne sentirete parlare perché insomma abbiamo fatto delle cose interessanti. Quindi adesso ti stai concentrando tanto sulla musica e la il il tuo lato regista lo lasciamo un attimo lì perché adesso ci sono troppe cose da fare, una famiglia da mandare avanti giustamente. Sì esattamente. Il turno c'è tempo. Ho fatto tre film uno di seguito all'altro e ti posso dire che fare un film è insomma. È tosta. È molto tosta perché a differenza della musica sai quando tu ti chiudi in sala sei tu con i tuoi musicisti, insomma un piccolo nucleo di persone e invece fare un film significa rapportarsi con decine e decine di persone e quindi insomma anche proprio mentalmente è un ruolo un ruolo proprio diverso. Sicuro del regista sei il primo ad arrivare l'ultimo ad andare via tutti. Sì. Qualunque tipo di problema ti arriva proprio in piena faccia. Sei il primo. Devi risolvere tutto. Devi risolvere tutto e devi avere sempre risposte da dare anche quando non ne hai. Cioè sta piovendo dobbiamo girare in esterni. Quando smette? Che facciamo? E devi dare una risposta anche in quel caso. Eh sì. Cioè rischi si diventa grandi però secondo me facendo il regista no? Si diventa grandi e si diventa pazzi. Si diventa pazzi. Però sì adesso insomma poi sto lavorando molto nei videoclip e quindi insomma la tengo poi come dire sempre calda questa cosa della regia e poi chissà tornerò magari. Tra l'altro vi curato la sceneggiatura e la regia del videoclip di Un Tempo Piccolo. Si. Che adesso ascoltiamo perché alla fine abbiamo deciso di sentire questa. Ah Un Tempo Piccolo. Eh la dedichiamo al maestro Garisano. Eh sì 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 so che tu ci tieni tanto questo pezzo. Eri venuto a presentare quel disco lì l'ultima volta. Eh quindi parliamo di quasi. Mamma mia. Ten years. Dobbiamo proprio dirlo. It's been a long time. Vabbè siamo maturati nel frattempo Federico dai. Siamo dello stesso anno tra l'altro. Tu sei qualche mese più giù. Sessantotto. Sì 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 sì. La bella piena X generation però tu mi sei maturato perché hai fatto famiglia, hai fatto le bimbe. Eh vabbè. Sai che questo video qui di cui parliamo è stata la mia prima regia e infatti poi eh sono arrivati dei film perché con questa regia eh avevo vinto il premio a Cinecittà e quindi insomma da lì in una casa di produzione si era poi interessata a me come regista. Allora lo ascoltiamo un tempo piccolo, tiro mancino, anche l'intro bellini, mi ascolterei anche l'intro in religioso silenzio, vai. Mattino Lombardia. Che dire viene sempre la pelle d'occo quando si riascolta questo pezzo tiro mancino, un tempo piccolo, Federico Zampaglione qui da noi stamattina, ancora benvenuto Federico, ci hai fatto un grande regalo, poi ripassi, intanto c'è tutto questo tour pazzesco che ti rivedrà insomma tornare. Quanti ricordi questa canzone. Vero, vero, vuoi spendere due parole? Sì questo è un pezzo del maestro Califano, io mi ricordo che ero nel porto di Genova di notte, insomma avevo comprato questo disco e poi lo vendevano in edicola, dove tra l'altro c'era anche la canzone che io ho scritto per lui che era Non escludo il ritorno, che poi è una frase che lui ha fatto mettere sulla sua lapide, Non escludo il ritorno, anche per dare il senso della grande autoironia del maestro. Mi ricordo che in quell'album a un certo punto è partita questa canzone che era un tempo piccolo, cioè aveva delle piccole differenze di testo, ma insomma era quella. Io sono rimasto fulminato, allora mi sono fermato con la macchina e l'ho chiamato, era notte fonda, ma chiaramente chiamare Califano a notte fonda era una garanzia di risposta, se lo chiamavi se no altrimenti entro, non lo so, le tre del pomeriggio dormiva e quindi gli ho detto Franco ma questa canzone è fantastica dell'altra parte, gli ho detto guarda io vorrei tanto rifare, però ti dico subito che ci sono delle frasi che voglio cambiare perché cantate da te sono perfette, cantate da me non risultate, basta che voi cambiate la vodka con l'acqua tonica. Mamma mia straordinario, straordinario. Io ho detto no la vodka con l'acqua tonica non la cambiamo e poi il pezzo è stato un grande successo e il maestro era contentissimo perché è stato uno dei suoi, come dire, in una fase avanzata della sua vita in cui aveva scritto comunque capolavori perché al di là dei pezzi più conosciuti se uno va a cercare nel suo repertorio si accorge che è stato uno dei più grandi parolieri artisti della musica italiana e insomma questo è stato proprio un colpo ben riuscito nella sua fase insomma un po' più in cui era più anziano e una grande soddisfazione. Tu la rifarai al Blue Note? Assolutamente sì. Certo. È un pezzo che faccio sempre in tutti i concerti. Sì perché è una botta di emozione. Riprendiamo un po' il disco Indagine su un sentimento. Ho sentito che c'è appunto un pezzo che si chiama Relier. Tu andrai a Londra per questa tournée europea. Come mai? Ma guarda il pezzo, quello è un pezzo che ho scritto con mio padre in realtà. L'ispirazione nasce dal fatto che c'è stato un lungo periodo in cui io lavoravo con Michele Placido perché era uno degli attori di un mio film e lui in quel momento stava facendo il Relier in teatro quindi mi parlava nelle pause di registrazione era ossessionato da questo personaggio anche perché è un personaggio controverso molto come dire insomma pieno di dolore. E allora lui mi parlava sempre di questo Relier. E così a un certo momento è entrato nell'aria in qualche modo e con mio padre che ovviamente è anche lui un grande amante di Shakespeare. Poi abbiamo fatto questa canzone. Insomma sono contento perché è un pezzo sulla sull'importanza del riconoscere il proprio sentimento, non lasciarlo, non lasciarsi confondere, dargli la giusta interpretazione del giusto valore. Cosa che Relier poi nella tragedia shakespeariana non ha fatto. Non ha fatto. Commettendo l'errore più grave della sua vita e quindi non capendo che sua figlia Cordelia era l'unica tra le sue figlie che realmente lo amava. Ad amarlo veramente infatti mamma mia. E che dire Federico purtroppo il tempo a disposizione è finito però dobbiamo ricordare prima di tutto i concerti al Blue Note 24 e 25 ottobre, le le serate, la seconda serata quindi quelle le due i due appuntamenti da 23 e 30 sia del sabato che della domenica. No del venerdì scusami è venerdì è vero venerdì ventiquattro e venticinque e sabato hanno ancora spazio. Sì ci sono ancora dei biglietti mentre per lo spettacolo delle ventuno sono esauriti. Quindi venerdì e sabato ventiquattro e venticinque ottobre via Borsieri a Milano ma il Blue Note è talmente famoso che chiunque sa dove si trova a Milano è proprio qui vicino alla radio. Sì infatti si viene a vedere il il Duomo e poi si va la sera al Blue Note e tutto sul nostro diario di bordo sul nostro Facebook. Adesso ascoltiamo Liberi. Grazie certamente e salutiamo ringraziamo Federico Zampaglione Zampaglione Tiro Mancino ti aspettiamo presto non fare passare ancora tutti questi anni. No 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 adesso sono sul pezzo. Mattino Lombardia